che negli ultimi tre anni ha ricevuto un miliardo e trecento milioni di euro di presito ponte che io non ho mai ancora capito se i presiti ponte poi vengono restituiti nell'ottica di preso. Ma è di tutto evidente che la chiacchiera sulla nazionalizzazione di Alitalia è una chiacchiera italiana perché Alitalia è stata già nazionalizzata. Un miliardo e trecento milioni nell'ultimo anno e mezzo vuol dire semplicemente questo che Alitalia è in sostanza finanziata, alimentata con i soldi pubblici, con i soldi dello Stato. Adesso il progetto, anzi io personalmente sono d'accordo con molte delle cose che diceva adesso Cremaschi sulla storia dell'Italia però naturalmente in attesa della rivoluzione che non credo sia imminente c'è il problema di risolvere la questione di Alitalia e di risolvere la questione dei 12 mila lavoratori. Cremaschi abbia pazienza, ascolti anche lei un attimo, capisco che sicuramente ha delle ricette già più chiare delle mie in testa io non ce l'ho, però il punto vero è di cercare di capire come uscire fuori da una situazione in cui un piccolo vettore come Alitalia, perché Alitalia è diventato un piccolo vettore, possa sopravvivere. Morani opportunamente ricordava che il momento d'oro era il 2008 quando si trattava di far entrare all'Italia in una grande alleanza per il volo. Quella opportunità è sfumata, come si è visto in questi anni, privati o non privati, non c'è nessuna azienda competitiva in questo settore su scala internazionale che sia interessata all'Italia così come oggi. Io capisco la disperazione dei lavoratori, ma capisco anche che un Paese responsabile deve comprendere che non possiamo evidentemente fare, come dicevi tu, la differenza tra lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Bisogna elaborare un piano di ristrutturazione dell'azienda e cercare di renderla compatibile con una grande alleanza per il volo internazionale. Se no Alitalia rimarrà a terra, perché non possiamo continuare, ce lo vieta anche l'Europa, ma non possiamo continuare con i fondi pubblici di questo Paese a finanziare un vettore inverso.